Storie legate al mercato sempre più vasto e lecito dei prodotti che replicano i marchi delle grandi griffe di abbigliamento. Un mercato sommerso e molto difficile da affermare all'origine. I prodotti che quotidianamente vediamo nelle strade e nelle piazze in offerta sono solo i rivoli finali di un'area illegale in continua espansione. Questa mattina a Napoli la Guardia di Finanza ha fatto un colpo grosso sequestrando 300.000 capi di grandi griffe italiane a far saltare il banco. Di sei organizzazioni criminali è stata un'operazione nel cuore di un territorio difficile come quello della provincia di Napoli, dove è soffocante il controllo dei clan camorristici. La produzione e la distribuzione di questo tipo di merci seguono il percorso della droga. Per le organizzazioni criminali si tratta di operazioni a basso costo e con alti profitti. Nell'operazione delle Fiamme Gialle, chiamata Via della Seta, sono finiti in manette 49 persone, alcuni di loro appartenenti a tre delle sei organizzazioni gestite direttamente dal clan camorristico Mazzarella, noto per il traffico illegale di sigarette, 18 i locali sigillati con 442 macchinari per produrre il materiale contraffatto, 76 le persone denunciate. Dall'indagine, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, è stato dimostrato come le organizzazioni criminali controllavano e finanziavano il traffico della merce contraffatta, indicavano la rete dei clienti ricettatori e investivano i proventi illeciti in alte attività economiche. Secondo gli investigatori delle Fiamme Gialle, la camorra aveva creato una vera e propria holding che si occupava sia dell'importazione della merce dalla Cina, sia della commercializzazione e della produzione del materiale contraffatto in tutta Italia, specialmente in Lombardia, Lazio e Abruzzo. I vari gruppi avevano stipulato una sorta di alleanza di mutua assistenza che spingeva i singoli ad aiutarsi tra loro per reperire le materie prime e i prodotti finiti, collaborando alle operazioni gestite da persone appartenenti agli altri clan. Oltre ai capi di calzature, articoli di pelletteria falsi, sono stati sequestrate anche beni mobili, immobili, cassette di sicurezza, polizie assicurative, conti correnti, il tutto per un valore di oltre 3 milioni. Dal sud al nord il mercato della contraffazione è ramificatissimo. Anche a Padova questa mattina i militari delle Fiamme Gialle hanno denunciato a piede libero 30 persone, 4 delle quali già i domiciliari perquisizioni a tappeto tra Firenze, Prato, Reggio Calabria e Milano. Sono state sequestrate 53 mila articoli con marchi contraffatti per un valore commerciale di oltre 4 milioni di euro.